Insomma Greta comincia già ad avere degli effetti concreti, ma non tutti sono entusiasti. Fra i molti messaggi vediamo anche qualcuno critico. Leggiamolo insieme. Allucinanti come i media, asserviti, o i media meglio, asserviti al potere dominante, strumentalizzano questa povera ragazzina. Lei crede fortemente in ciò che dice, ma non si rende conto di essere utilizzata da gente che poi tribella al mare, fa colate e stuccolate di cemento e opere inutili, scrive il siciliano Notav, critico, ma c'è chi la difende. Ora non va bene nemmeno che Greta vada dal Papa scomodo. Nessuno di voi che denigra questa ragazza merita una sola parola di risposta da Greta. Greta vai avanti. Come sempre ci si divide. Come ci si divide a livello politico sul tema caldo di oggi, che sono le tasse.